Il derby tra Teramo e Avezzano va in scena a Notaresco. Domani giornata chiave per quanto riguarda la questione stadio Gaetano Bonolis con il consiglio comunale che dovrebbe ratificare il passaggio della gestione sportiva dell'impianto al comune. Ma oggi a parlare è stato il campo con un derby stimolante e già pesante in chiave classifica. Andando per ordine Biancorossi e Marsicani si presentano all'impegno senza vittorie. L'Avezzano addirittura non ha ancora raccolto punti. Lunedì mister Mirko Pagliarini è stato sollevato dall'incarico. Squadra affidata alla personalità di Sandro Pokesci ma in panchina oggi va Emilio Coraggio. Chiavi dell'attacco nelle mani di Litteri. Iniziale panchina per vantaggiato. Non è con il gruppo il centrocampista Edio Nazzi che ha formalizzato la rescissione del contratto. Sotto questo punto di vista la società bianco-verde è tornata sul mercato alla ricerca dei rinforzi. Dall'altra parte Marco Pomante se la gioca con il tridente nel quale l'imprevedibilità di Pavone e De Gidio fa da spalla all'unica punta Galesio. L'approccio migliore è De Biancorossi, travolgenti negli spazi per l'intera prima frazione. Dopo appena due minuti De Gidio cambia gioco e trova Pavone che al momento del tiro viene disturbato da Zammarion guadagnando solo un corner. L'Avezzano si fa avanti. All'ottavo Ferrari sfrutta un passiccio difensivo ma l'ha stoccata dal limite centrale. Sul ribaltamento di fronte Sposito chiede il penalty per un tamponamento ai suoi danni ma per Teghille di Collegno non c'è nulla. Al 18esimo il Teramo trova il vantaggio. Cavalcata di Petrantonio sulla sinistra, cross sul quale arriva Loncini che ripropone al centro per Galesio che non colpisce ma alle sue spalle De Gidio in sacca e fa esplodere il Savini. L'Avezzano abbozza una reazione rabbiosa ma sono i padroni di casa a sfiorare il raddoppio. Fabian Pavone si invola ancora verso la porta e colpisce di punta ma la sfera si alza. Intorno alla mezz'ora manca la precisione a Tonelli mentre Verna non trova la forza per battere Di Giorgio. Al 35esimo Mascella è provvidenziale in chiusura su un incontenibile Pavone lanciato a rete. Ancora Teramo un minuto più tardi con la conduzione stoccata di De Gidio dal limite che sfiora il palo. I marsicani sperano nell'intervallo per fermare l'entusiasmo bianco-rosso ma prima De Silvestro sporca i guanti di Di Giorgio mentre Pietrantonio sfonda sulla sinistra ma trova l'opposizione di Zamarion. Nella ripresa l'Avezzano prova a spingere ma le occasioni latitano come vediamo dalle immagini di Manuel Centurame. Nel frattempo Pomante punta sulla velocità di Touret che rileva Pavone, autore di un'ottima prestazione mentre Coraggio inserisce vantaggiato per De Silvestro. Al 28esimo l'occasione ce l'è il Teramo con Esposito. Il numero 8 lascia partire un tiro a giro che si spegne a lato. Impreciso anche bone wall spinner un paio di minuti più tardi mentre l'acuto bianco-verde porta la firma di Bolo che si destreggia bene nel traffico ma non trova la porta. Durante gli assalti finali gli ospiti protestano per un presunto tocco di mano in area anche stavolta Teguille lascia correre. Nel recupero non accade più nulla. Il Teramo festeggia la prima vittoria in campionato e sparge entusiasmo tra i tifosi a corsi numerosi al Savini. Continua il periodo nero dell'Avezzano che dovrà trovare risposte positive nel più breve tempo possibile. Ancora a zero i punti dopo quattro partite.